benvenuti a tutti in questo corso mini corso di arte contemporanea e per questa occasione siamo grati all'unie da che ha voluto sostenere il nostro progetto e faccio subito i miei ringraziamenti la sigla di testa che avete sentito è suonata in diretta nello spazio di archiving roma da marco massimiliani le riprese e il montaggio sono dell'area rigiustili che è una fotografa una socia un'amica e che ringrazio appunto per il suo lavoro e cominciamo la torre di babele gli infiniti linguaggi dell'arte contemporanea intanto spieghiamo un pochino perché il titolo tutti quanti noi abbiamo avuto occasione in qualche mostra in qualche galleria di trovarci assolutamente a disagio di fronte al contemporaneo il problema è proprio questo che l'arte contemporanea di fatto ha difficoltà nel comunicare con noi perché tanti sono i media diversi cioè i mezzi media si usa appunto per mezzi che vengono utilizzati per fare arte non essendoci più praticamente distinzioni intanto devo un ringraziamento almeno a un autore uno storico dell'arte che si chiama pierpaolo pancotto ecco qua il suo libro arte contemporanea il nuovo millennio perché la definizione di babele dell'arte in realtà viene proprio da lui analizzando diciamo nel suo libro l'arte del secondo novecento ma soprattutto l'arte appunto del nostro ventunesimo secolo ogni tanto parlerò di libri in questa serie di incontri che faccio che faremo tra noi anche se via video perché comunque potreste avere la curiosità di approfondire qualche cosa oltre questo lavoro diciamo così di divulgazione spero anche divertente tra l'altro che vi stiamo proponendo in particolare vi propongo subito un altro libro angela vettese si fa con tutto il linguaggio dell'arte contemporanea eccolo qui dove per l'appunto anche soltanto scorrendo l'indice effettivamente noi potremmo trovare un po tutti i linguaggi del contemporaneo e la vettese è anche lei una storica dell'arte ma è un'ottima divulgatrice ciò non significa che voi per forza vi dovete procurare questi libri significa semplicemente che comunque chiunque voglia raccontare l'arte contemporanea deve avere dei punti di riferimento e come dicevo all'inizio appunto tutti noi abbiamo avuto in qualche circostanza l'occasione di sentirci un po come alberto sordi alla biennale di venezia del 1978 dove effettivamente facciamo fatica a comprendere ma perché è successo questo soprattutto quando succede beh è una cosa curiosa perché effettivamente ciò succede effettivamente a partire dal 1905 anche se il mondo comincia a rendersene conto dopo la prima guerra mondiale ancora parlando di libri c'è un bellissimo libro divulgativo di un grandissimo autore che tutti voi avrete avuto modo di sentir nominare che è philip da verio questo libro si intitola il secolo lungo della modernità e si riferisce in particolare al diciannovesimo secolo quindi a quello che noi chiamiamo l'ottocento il secolo per capirci degli impressionisti non dobbiamo dimenticare che l'impressionismo quando nacque appunto siamo negli anni settanta dell'ottocento era già considerato effettivamente una forma di arte del tutto incomprensibile ci furono contestazioni articoli furibondi contro gli impressionisti che facevano si diceva allora delle cose orrende benissimo il secolo lungo della modernità al titolo ridaverio spiega molto bene questa sorta di slittamento perché di fatto possiamo dire che il diciannovesimo secolo finisca nel 1914 con la prima guerra mondiale quando cioè esplode la prima guerra mondiale quando ancora cioè le signore andavano in giro con i loro grandi cappelli con gli abiti col corsetto con il sellino e così via quando cioè si viveva nel pieno della bella epoca effettivamente cominciavano a nascere i primi movimenti di rottura e mi faccio vedere qui un altro libro se io prendo questo bellissimo volume della taschen che si intitola espressionismo e lo vedete qui vi faccio vedere che l'espressionismo che il primo movimento artistico che nasce proprio nel 1905 effettivamente affonda le proprie radici in un'epoca che è ancora quella della bella epoca non è un caso che tra le prime opere che noi vediamo pubblicate in questo volume dedicato ai protagonisti dell'espressionismo noi troviamo per esempio la notte stellata di van gogh che è del 1899 un dipinto famosissimo che tutti voi avrete presente perché comunque in ogni caso è un dipinto celeberrimo che pensate un po è datato al 1889 perché per noi è così importante perché van gogh è uno che diceva noi dipingeremo lo scrivo in una lettera fratello teo io voglio dipingere più vero del vero non mi importa se con degli errori non mi importa se utilizzando il colore in una maniera che non è reale io voglio dipingere un'altra verità che è la mia verità la verità cioè dell'artista sempre in questi anni quindi incredibilmente a fine ottocento per esempio munch dipinge l'urlo stavo cercando adesso l'immagine ma per esempio sempre di edward munch qui abbiamo un un altro dipinto sempre del 1892 quello qua questo solo da questo lato che è per l'appunto un dipinto che possiamo definire in qualche modo proto espressionista mentre sull'altro lato vediamo goguenna e vediamo cioè le donne a teiti dello stesso identico anno se non mi ricordo male si 1892 allora 1892 quindi siamo ancora sul fin del ventesimo secolo del diciannovesimo secolo perdonatemi allora come mai vi faccio vedere dei dipinti così antichi per dir per spiegarvi il novecento perché in realtà le rotture non arriva non avvengono mai improvvisamente certo è che effettivamente nel 1905 accadono delle cose che cambiano tutto che cosa succede di particolare proprio nel 1905 proviamo ad analizzare appunto guardando da un lato le arti figurative dall'altro il resto del mondo della cultura tra la scienza la musica la letteratura nel 1905 a dresda nasce la bruc che è stato il primo movimento espressionista in assoluto in germania mentre nel frattempo a parigi nascono nasce il movimento dei fove delle belve contemporaneamente einstein ha pubblica la teoria della relatività ristretta che cambierà la percezione del mondo mentre nel frattempo freud pubblica i tre saggi sulla sessualità praticamente riadunando insieme questi pochi eventi già abbiamo un vero e proprio cambiamento culturale perché abbiamo la diciamo la scoperta ufficiale della psicoanalisi e contemporaneamente abbiamo per l'appunto una ricerca da parte degli artisti di trovare un mezzo espressivo diverso questo mezzo espressivo che avevano cercato già appunto nell'ottocento personaggi come gauguin o come monk o come a per l'appunto van gogh ma con un elemento in più di rottura perché una cosa succede soprattutto che caratterizzerà poi quasi tutta l'arte del novecento all'incirca fino agli anni novanta succederà che gli artisti diventano contro cosa intendo dire con questo intendo dire che fino praticamente fino all'ottocento gli artisti hanno sempre avuto delle aspirazioni che potremmo definire in qualche modo borghesi o comunque che possiamo inquadrare nell'ambito romantico io uso spesso come esempio una frase della bohème che esprime benissimo quando rodolfo si presenta a mimì cantando dice chi sono sono un poeta che cose faccio scrivo e come vivo vivo in povertà mia lieta vivo da gran signore eccetera eccetera è una maniera estremamente tardo romantica di raccontare quella che è la condizione dell'artista rispetto al mondo al mondo che lo circonda ma in realtà appunto anche così romanticamente questi artisti cercavano una collocazione nel mondo cercavano di vendere le loro opere di esporre nelle loro gallerie tutte le azioni di rottura che sono fatte per esempio con il salon des indipendants oppure per esempio appunto con la nascita stessa dell'impressionismo in realtà sono azione più che di rottura contro la società è proprio di guadagnare uno spazio nella società viceversa proprio in questo contesto a cavallo tra due secoli tra l'ottocento e il novecento gli artisti diventano quello che potremmo definire contro in che senso nel senso che non è più la società che non che non mi vuole ma sono io che a un certo punto non voglio più questa società una società perbenista una società borghese una società che ci condanna una società che non ci accetta in più succede qualcos'altro la scoperta della psicoanalisi è molto importante perché la psicoanalisi ci dice una cosa fondamentale e che cioè l'unica verità che noi possiamo effettivamente conoscere è la verità del nostro inconscio che è una verità evidentemente che sta tutta dentro di noi e che non può trovare un riscontro universale e quindi ecco che non esiste nessun'altra verità che quella che l'artista sperimenta e che può mettere in scena nel giro di pochissimi anni a cascata entro la prima guerra mondiale veramente succede di tutto perché dopo il movimento brook nasce blue writer per l'appunto nasce il primo manifesto futurista nel 1909 nasce la sezione d'or nasce prima di tutto il cubismo nel 1907 nasce la sezione nord del cubismo nel 1912 nel 1915 quando cioè era appena scoppiata la prima guerra mondiale gli artisti per la prima volta dopo il risorgimento prendono una posizione profondamente politica perché nasce il dadaismo che nasce a zurigo cioè in un paese neutrale alla guerra chiaramente e appunto a zurigo si afferma questa è l'idea dell'arte anarchica un arte che rifiuta non solo dal punto di vista contenuto dei contenuti non solo dal punto di vista formale ma anche dal punto di vista proprio della modalità di comunicazione ogni rapporto con il mondo borghese con la guerra con gli imperi e con tutta quella che era stata la politica di quell'epoca e ne parleremo meglio in questo caso poi nella prossima puntata nello stesso tempo la stessa cosa succede nelle arti il teatro per esempio con il famoso dramma il gokoschka assassino speranza delle donne che viene messo in scena nel 1907 cioè proprio nello stesso anno dramma espressionista il primo dramma espressionista della storia che viene messo in scena esattamente nello stesso anno in cui picasso apre al mondo con le demoiselle d'avignon ma poi ancora abbiamo schemberg stravinsky di agilev con i balletti russi e proprio oppure ma anche in italia per esempio d'annunzio e giovanni pastrone che mettono in scena cabiglia entrano delle nuove arti entra finalmente anche il cinema tra l'altro nel linguaggio dell'arte ponendo un problema che sarà affrontato nei decenni successivi tant'è che nel 1938 un autore che si chiama Walter Benjamin pubblicherà un testo che si intitola l'arte al tempo della sua riproducibilità tecnica e che sarà un vero e proprio caposaldo quello che per noi è ovvio se noi andiamo al cinema non e troviamo un film che è un capolavoro conclamato non è meno capolavoro per il fatto che ne esistono 10 20 cento ormai file neanche più pizze che vengono proiettati non è il fatto che il film venga proiettato in 100 sale diverse non significa che il film in sé abbia perso valore perché comunque l'opera d'arte sta nel suo concetto beh noi oggi siamo abituati a questo non ci rendiamo conto che è stata una enorme conquista perché di fatto l'unicità e la manualità erano due degli elementi che discriminavano l'opera d'arte dal resto cioè in realtà quello che si chiedeva all'artista era per forza di avere delle competenze artigiane e che cos'è che accomuna tutti questi movimenti che nascono appunto nei primissimi anni del novecento e che poi troveranno in realtà il loro il loro punto di affermazione subito dopo la prima guerra mondiale il fatto di avere dei manifesti programmatici esiste un libro molto bello ed è diciamo un must tra gli studenti di stradell'arte di mario de micheli che si intitola le avanguardie artistiche del novecento questo libro che è stato riedito infinite volte proprio perché è usatissimo dagli studenti non soltanto vi racconta le avanguardie ma in realtà pubblica nelle ultime pagine del volume proprio i manifesti vale a dire questi testi che gli artisti stessi si presero la briga e il costume di scrivere proprio per spiegare al pubblico quali erano le loro intenzioni sono tutti alla fine del volume e in qualche caso sono anche piuttosto pittoreschi e divertenti per esempio molto interessante il manifesto dadaista proprio dove tristan zarà dice l'arte non deve essere bella per decreto e proprio il manifesto dadaista e proprio questa frase in particolare l'arte non deve essere bella per decreto sarà in realtà uno dei punti di partenza di tutto quello che succederà dopo perché una volta che io tolgo il concetto di bello il concetto di armonico il concetto di elegante il concetto di decorativo all'arte una volta che nel frattempo vado togliendo per l'appunto tutti quei concetti come la manualità l'artigianalità il l'unicità dell'arte ecco che ho fatto praticamente tabula rasa e quello che succede nella ricerca degli artisti dei primi anni del secolo e noi da qui cominceremo con la prossima puntata il nostro racconto vedremo dove ci porta e grazie grazie a tutti